Torno alla quarta edizione del Summit del gioiello italiano, un appuntamento strategico dedicato ai protagonisti dell'orificeria e della gioielleria italiana che ogni anno rinnova e rafforza l'impegno a supporto dello sviluppo e della compatibilità del Made in Italy. Organizzato da IEG, un evento unico per supportare lo sviluppo del settore orafo e investire nella crescita delle nuove generazioni, quest'anno articolato in due momenti. L'appuntamento si svilupperà stavolta, contrariamente al passato, infatti in due giornate. La prima il 5 dicembre dalle 18 alle 20 all'auditorium di Arezzo Fiere, un primo incontro su invito tra stakeholders nazionali e locali, pensato per esplorare insieme le sfide e le opportunità del comparto. La giornata tradizionale del Summit si terrà invece il 6 dicembre, sempre ad Arezzo Fiere, dalle 8 alle 14. Saranno coinvolte anche le scuole e i futuri orafi del domani.